La sedicesima edizione della Coppa Ciano sul non facile circuito detto di Miramare dopo una movimentata gara ricca di emozioni è stata una spettacolosa affermazione dell'industria italiana e di nostri piloti. Nuvolari seguito da Brivio e Dreyfus giunge primo al traguardo alla media oraria di 120 chilometri 382 metri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.